Presentato alla libreria Io ci sto al vomero il romanzo storico di Anita Curci dal titolo Nina, ossia La pazza per amore. La storia in questo libro si dipana negli anni che precedono il sanguinoso 1799 napoletano, quando vengono dosiziati molti intellettuali del regno di Napoli dalle dèe Giacobine. Il romanzo si apre nel luglio del 1689 e si arresta bruscamente nel 1795, nel periodo in cui la situazione in città precipita in maniera irrimediabile, spiega l'autrice. Il libro si dipana negli anni precedenti al sanguinoso 1799 napoletano. È la storia di una marchesina, Nina Scarca, povera, costretta a fingersi uomo per poter sopravvivere in un territorio maschilista, ma soprattutto in un territorio pericoloso che si corre spedito verso il sanguinoso 1799 napoletano che vede giustiziati molti giovani intellettuali del regno di Napoli dalle dèe Giacobine. Hanno dialogato con l'autrice Silvana Campese, Maria Rosaria Lanza, Berardo Impegno. Le letture sono state fidate a Giulio Adinolfi, a moderare Andrea Rielardi. Il libro è edito da Cairos.